Voglio fare i migliori auguri alle famiglie del Friuli Venezia Giulia, sia di un sereno Santo Natale che un 2024 che sia in grado di farci affrontare le sfide. Non vuol dire che le difficoltà non ci saranno, ma avere le spalle larghe per affrontarle, superarle e trasformarle in opportunità. È quello che è avvenuto anche nel 2023, le tensioni internazionali che hanno colpito tutto il globo, l'Occidente, l'Europa, l'Italia, il Venezia Giulia in realtà sono state affrontate con grande capacità di reazione da parte del sistema della nostra regione, dalle imprese, alle famiglie, ai cittadini, ai sindacati, al volontariato, tutti hanno remato nella sua direzione. Io mi auguro che questo spirito di appartenenza che ci permette di remare tutti nella sua direzione e di superare e affrontare queste sfide, possa rimanere con noi anche nel 2024 per far sì che queste difficoltà, queste nubi all'orizzonte che ci saranno indipendentemente dalla nostra volontà, però ci permettano di avere gli ombrelli e di aprirli e sapere che possiamo continuare a costruire il futuro riparati e protetti e con fiducia per consegnare a chi verrà dopo di noi un Frivenza Giulia ancora più ricco e che garantisce ancora più opportunità. Buon 2024 a tutti.